Nel segno di Carmelo Bene, nella sua Santa Cesarea Terme, che gli donò l'ispirazione per la celebre pellicola Nostra Signora dei Turchi, ritorna il premio Targa organizzato dall'assessorato comunale al turismo e spettacolo con il patrocinio della provincia di Lecce. L'appuntamento è per venerdì 31 agosto a partire dalle 21 in Piazzale Cresti, un'edizione straordinaria del premio che quest'anno sarà assegnato alla memoria dell'artista Salentino Carmelo Bene, considerato uno degli artisti più poliedrici nella storia del Teatro Mondiale, i cui genitori erano originari di Vitigliano, frazione di Santa Cesarea Terme, che proprio a Santa Cesarea Terme ha legato una parte importante della propria esistenza e del proprio lavoro. Per la caparbia volontà dell'amministrazione comunale, del sindaco Creti e l'impegno dell'assessore Lele Corsano, quest'anno il premio Targa ritorna più pimpante che mai con questa edizione straordinaria dedicata al maestro Salentino. La nostra amministrazione, la mia amministrazione, ha inteso riprendere questo premio che era stato appunto sospeso alla fine degli anni 90, perché riteniamo che sia un evento importantissimo ai fini della promozione del territorio, delle bellezze naturali di Santa Cesarea Terme. A ritirare il premio ci sarà Salome Bene, figlia del maestro, testimonial della serata, agli attori Lando Bunzanka e Luigi Rendine, rispettivamente presidente e direttore dell'Accademia Sharof di Roma, accademia frequentata da Carmelo Bene. L'evento sarà trasmesso in diretta televisiva e radiofonica su Telerama, sul canale 12 del Digitale Terrestre, da Radio Regione Salento, fidata alla popolare regista e attrice Rosaria Ricchiuto, originaria di Specchia. Ho accettato con gioia la direzione artistica di questo importante premio, il premio Targa di Santa Cesarea Terme, direzione artistica proposta a me dal sindaco Daniele Cretia e dall'amministrazione comunale. Quest'anno il premio è interamente dedicato al grande genio salentino Carmelo Bene. Avendo io frequentato la stessa Accademia di Carmelo Bene e la Pietrosherof di Roma, siamo riusciti ad ottenere la prestigiosa presenza di Lando Bunzanka, e anche il direttore Luigi Rendine, quella sera saranno sul palco insieme a noi, la sera del 31, e inoltre l'evento sarà in diretta su Telerama e su Radio Regione Salento. Gabellone ha sottolineato in conferenza stampa che finalmente col premio Targa si parla di Carmelo Bene e del suo genio non di polemiche inutili e dannose, ricordando che la data del 31 agosto va incontro a quell'esigenza di destagionalizzazione che la provincia vuole perseguire. Simona Manca ha ribadito come anche quest'iniziativa si inserisca in un più grande e generale progetto di valorizzazione del patrimonio del nostro territorio. Appuntamento quindi il 31 agosto a partire dalle 21 in diretta su Telerama.